Oggi, anche tu potrai ammirare e acquistare le opere d'arte moderna ed antiquariato proposte dalla Galleria d'Arte Merchionne di Loano. Ogni mercoledì alle 23.30 su Telenord e alle 24 su Telenord Sky 913. Non perdere l'appuntamento con l'arte, opere scelte di artisti contemporanei e oggetti di antiquariato. Galleria d'Arte Merchionne, solo su Telenord.